C'è stato un altro film di Woody Allen che ci ha cambiato la vita, si chiama Come Noi, Accordi e Disaccordi in inglese, Sweet and Lowdown. Lì c'è Sean Penn che interpreta una specie di Django, una caricatura di Django, lui diceva sempre, io sono il più bravo chitarrista del mondo, ma dopo uno zingaro francese che suona soltanto con due dita e mi batte in tutto, questo era il grande Django ovviamente. Vedendo questo film si possono ascoltare tutti i brani più importanti delle discografie di Django, insomma ci siamo letteralmente innamorati del genere e da lì abbiamo incominciato a suonare insieme. L'ultimo disco che si chiama Live Tracks che presenteremo prossima settimana al Jazz Club si chiama Live Tracks perché l'abbiamo pensata come un live in studio, quindi siamo andati in studio, abbiamo premuto REC e abbiamo registrato ciò che è uscito. Rispetto agli altri dischi abbiamo detto proviamo a fare qualcosa di diverso e chiamiamo a collaborare con noi tutti, cioè non tutti, ma gran parte dei musicisti, colleghi e amici che in questi anni hanno suonato con noi. Quindi trovarsi senza percussioni sicuramente interessante, è stato stranissimo, ho dovuto imparare una tecnica nuova di suonare, leggermente diversa. La maggior parte dei brani li ha scritti Alessandro proprio nei viaggi che noi abbiamo fatto e a me piace pensare che i brani di Accordi siano proprio il riassunto di questo viaggio che abbiamo intrapreso qualche anno fa e che sta continuando adesso con le varie tappe. A me piace, ad esempio quando scrivo un pezzo, mi piace ricordare quel sound, quel genere lì, però cercare di incrociare anche altri mondi, vie più vicine a me. Poi a me piace ascoltare tanta musica diversa e quindi poi questa cosa esce fuori. Lo dicevamo prima appunto nel tema del viaggio, noi siamo partiti da Via La Grange a Torino con l'amplificatore di Napile e siamo finiti a Londra sempre con l'amplificatore di Napile. Abbiamo suonato lì e poi per una serie di eventi, insomma, siamo evoluti e abbiamo iniziato a trovare date, insomma, locali, piccoli festival in contrabassista con il quale suonavamo londinese, quindi abbiamo lavorato in Inghilterra, abbiamo lavorato in Italia, abbiamo lavorato in tanti paesi. Diciamo quello che in assoluto ci ha colpito di più è la Russia. Noi, a meno a detta del nostro manager, siamo stati i primi italiani che suonano Gypsy Jazz a fare un tour, tre ne abbiamo fatti in Russia, siamo stati in totale più di quattro mesi, l'ultimo l'abbiamo fatto l'anno scorso, novembre, dicembre, siamo stati due mesi, siamo prossimi a partire tra qualche giorno. Ecco, questo paese è un paese meraviglioso.